Il pubblico cinematografico Invito il pubblico cinematografico ad unirsi a questo viaggio verdiano con la Filharmonica della Scala e possibilmente ad occhi aperti o chiusi, come volete, farsi veramente portare dall'onda della grandezza di questa musica. È musica che dà gioia. La joie de vivre, la musica in particolare, dei balletti, dei ballabili, di verdi, concepiti come qualcosa di straordinariamente esaltante. La musica e la bravura dell'orchestra saranno, secondo me, un mezzo straordinario per arrivare ad avere questa emozione collettiva. Buon ascolto. Grazie a tutti.